Corre verso il Pakistan Lo stormo ti overcrà Salveranno il mondo Ma dopo la pubblicità Vola per l'Afghanistan Un'altra volontà Porta la modernità Ma prima vi torturerà Il luccio re di Timoress Non gridano di giubilo Non sanno più brillare Lampedusa è un attimo La fabbrica è un abbaglio Vimini è molto rai Turisti alla PlayStation Dentro al nostro canhotel Nella sala d'aspetto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.